buongiorno a tutti allora cominciamo la settimanella delle schedine bollettine del gigione perché qua non ci si ferma ma un po come il rosport no non ci si ferma mai perché venerdì sera abbiamo ben cinque partite una del campionato spagnolo due del campionato francese una del campionato italiano che mi tocca e una del campionato tedesco quindi partiamo subito a mio rischio e pericolo villareale atletico madrid x2 lil brest 1 nips bione x2 inter roma 1x eintra erta berlino 1x romanisti possono fare anche ins 2 ognuno metta quello che vuole su inter roma io metto l'1x e penso che è un risultato che ci può stare veniamo alla seconda bollettina quella alternativa villareale atletico madrid o under 3 e mezzo over 1 e mezzo vedete voi io ho fatto over 1 e mezzo però ci può stare anche l'under 3 e mezzo però vedendo quello che è successo settimana scorsa proviamo l'over 1 e mezzo lil brest over 1 e mezzo nips lione over 1 e mezzo inter roma gol perché francamente credo che sarà una partita molto ma molto spettacolare piena di reti e eintracht erta berlino over 2 e mezzo anche perché la quota non mi dispiaceva mi acchiappava vediamo 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 alle bollettine ho scelto naturalmente quattro partite a mio rischio e pericolo ho scelto villareale atletico madrid e non inter roma perché sulla carta l'inter è leggermente più favorita dell'atletico madrid però non voglio non voglio non me la sento di giocare inter roma sono di parte eccetera eccetera quindi preferisco rischiare su villareale atletico madrid quindi villareale atletico madrid 2 lil brest 1 nips lione 2 eintracht a berlino 1 con 5 euro 53 euro 0 3 tenete conto villareale atletico madrid è molto ma molto arrischiata una partita da tripla con l'atletico madrid favorito ma non troppo seconda bollettina villareale atletico madrid x2 lil brest 1 nips lione x2 eintracht a berlino 1x con 5 euro 13 ore 32 giustamente po pochino allora si potrebbe rischiare la fissa su eintracht a berlino 1 fisso e allora la quota salirebbe a 19 e 98 lì vedete sempre voi se farla non vi piace paga poco eccetera eccetera terza bollettina quello un attimino più interessante villareale atletico madrid is 2 più over 1 e mezzo lil brest 1 più over 1 e mezzo nips lione is 2 più over 1 e mezzo aintracht a berlino 1x più over 1 e mezzo con 5 euro 32 euro e 73 la quarta bollettina villareale atletico madrid gol casa sì l'il brest gol ospite sì nips lione gol casa sì aintracht a berlino gol ospite sì con 5 euro 22 euro e 29 bollettina un attimino più corposa che so che vi piace un attimino di più scusate un secondo mi soffio il naso perché il raffreddore malefico bene 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 riprendiamo con la quinta bollettina villareale real atletico madrid gol più over lil brest gol più over l'ips lione gol più over aintracht a berlino gol più over con 5 euro 121 euro e 25 di vincita potenziale tenete conto che villa real atletico madrid il gol più under è favorito ma siamo nell'ambito di 0,60 di differenza lil brest il gol più over è più o meno uguale al gol più under c'è una differenza inferiore allo 0,25 quindi io quando è inferiore allo 0,25 dico più o meno uguale quindi siamo lì mentre invece l'ips lione entra erta berlino il gol più over è nettamente favorito infine sesta bollettina il tricombo classico villareale atletico madrid due più gol più over lil brest due più gol più over nips lione due più gol più ecco fatto un casino ripetiamo villareale atletico madrid due più gol più over lil brest 1 più gol più over nips lione 2 più gol più over e aintracht erta berlino uno più gol più over con due euro se ne vincontro 181,64 con 5 954,12 visto e considerato che il no gol più under in villa real atletico madrid è favorito ho fatto anche il conteggio se voleste giocare il due no gol più under di villa real atletico madrid lasciando invariato le altre tre e allora in quel caso con due euro se ne vincontro 312,58 e con 5 euro 781,47 lì è a vostra sempre discrezione come vi dico sempre usate la vostra testa se vi piacciono le mie schedine le copiate se non vi piacciono estrapolate scegliete il pronostico che vi piace e fate una bollettina vostra personale e detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao